Iniziamo con Andrea Dotto, CEO di Puro. Puro è un'impresa nata a Murano nel 2012, quindi relativamente giovane rispetto al patrimonio con cui ha a che fare tutti i giorni e che ha inteso di confrontarsi. Ed è la testimonianza di come una visione aziendale riesca a confrontarsi nel contemporaneo con una tradizione millenaria e anche che l'innovazione passa e può passare dal rinnovamento di una cultura di impresa. Con lui sentiremo anche uno dei designer di punta dell'azienda Federico Peri, che è un milanese però evidentemente attratto dalla bellezza del vetro e dalle potenzialità delle tecniche soprattutto, che possono comunicare non solo la bellezza, di bellezza ne abbiamo parlato già tanto, ma anche la perizia, torna sempre questa idea della bellezza, ma anche la perizia di un lavoro antico che come la materia che trasforma e duttile è sensibile ai cambiamenti e alle interpretazioni. Per questo adesso comunque lascio la parola ad Andrea Dotto e che ci racconta della sua azienda e del lavoro vero, come dire, non solo quello manuale, del lavoro che c'è intorno all'azienda. Grazie, grazie Porzia, ringrazio per l'invito Emanuele ed Ernesta e Cinquevie, mi fa molto piacere essere qui a poter parlare del vetro di Murano, perché credo che il vetro debba avere un rispetto enorme, perché è un'eccellenza italiana e come diceva Porzia è un'arte millenaria che secondo me deve mettere anche un po' di soggezione, almeno a me ha fatto questo effetto iniziale, avendo un'azienda che ha nove anni di vita, ho intrapreso questa attività imprenditoriale con molto rispetto. Devo dire che sono stato molto attratto da questa magia della creazione, quindi dalla possibilità di collaborare con i maestri vetrai, di collaborare con tutta la filiera, quindi con i serventi, con i garzoni, con i molatori. È un'esperienza tuttora meravigliosa, vengo proprio ieri dalla fornace con Federico, dove abbiamo creato quattro oggetti nuovi, sono ancora emozionato ed entusiasta da quello che abbiamo fatto. Ritengo che la conoscenza del vetro e la cultura del vetro sia troppo poco trasmessa, nel senso che io sarebbe auspicabile che si possa attraverso, soprattutto in un periodo storico come questo, trasmettere appunto la conoscenza del vetro di Murano attraverso i mezzi digitali che, grazie a Dio, almeno quelli possiamo sfruttare, quindi attraverso ovviamente i siti, attraverso i cataloghi digitali, attraverso i social media, attraverso la comunicazione, attraverso immagini, attraverso i video, attraverso clip, perché racconto un aneddoto di ieri, ho regalato sei bicchieri a un amico, un medico, che mi ha chiamato il giorno dopo dicendomi, Andrea guarda che uno dei sei bicchieri è un po' più spesso degli altri, gli ho detto Alessandro, ed è una persona assolutamente di cultura, però quello che dico è che comunque manca questo aspetto, secondo me, a livello anche mondiale, quindi credo che sia molto importante proprio riuscire a divulgare questa conoscenza, questi aspetti, la fatica, il sudore, di cui necessita la produzione muranese, ecco, ripeto, una serie di aspetti sconosciuti alla massa, che renderebbero sicuramente, insomma, giustificherebbero anche poi il prezzo, perché poi parliamo anche di costi molto alti, di produzione, di stock, di scarti, ci sono veramente tantissimi aspetti sconosciuti, quindi il vetro di Murano ha bisogno assolutamente di essere tutelato. Per quanto riguarda, diciamo, la mia esperienza, la nostra esperienza aziendale, siamo sempre stati alla ricerca di materiali di qualità, assolutamente, quindi alla ricerca di fornaci che potessero permetterci di produrre vetro di qualità, alla ricerca di colori nuovi, il mio obiettivo è quello di utilizzare anche altri materiali, cosa che stiamo già facendo da un paio d'anni, quindi questa commistione di materiali pregiati come l'ottone, che è tutte le sue varianti, quindi un ottone brunito, l'ottone satinato, l'ottone lucidato, che insieme, ovviamente, al vetro dà ulteriore prestigio. Abbiamo coinvolto un artigiano qua a Milano, che è uno dei pochi, forse l'ultimo rimasto, che fornisce ancora la scala di Milano, con la passamaneria, con loro abbiamo fatto delle frangi in tripolino, che utilizziamo per la realizzazione di una lampada, tutti collaboriamo col gruppo Colleoni a Bergamo, che è un'azienda che ha tre generazioni di storie, esiste dal 1954, e siamo riusciti anche con loro a realizzare un lampadario fatto di tessuti pregiati, di velluti di seta, in commistione appunto con l'ottone e con il vetro di Murano. Insomma, credo che per portare avanti, anche per dare ancora, ripeto, più lustro e più importanza al vetro, che è già di suo materiale prezioso e meraviglioso, l'utilizzo di altri materiali possa essere assolutamente importante, assolutamente innovativo, ovviamente anche con l'utilizzo della tecnologia, per quanto riguarda il lighting in questo caso, il vetro di Murano può avere ulteriore splendore. Ecco, un altro aspetto che mi preme toccare, è come dicevo prima, ho sentito parlare ai miei colleghi di fragilità, il vetro sicuramente è un materiale non soltanto fragile dal punto di vista materico, ma la fragilità del vetro di Murano si concretizza nel fatto che ad oggi purtroppo non esiste una tutela del vetro. Il distretto, il comparto di Murano, ha perso in otto anni 500 addetti, si è passati dai 1300 agli 800 addetti di oggi, c'è un buco di fatturato del 60% causato dalle falsificazioni made in China, abbiamo fatto un'inchiesta un paio di anni fa con un amico giornalista di Repubblica, sono venuti fuori dei numeri agghiaccianti, ci sono 20 attività a Murano che vendono vetro cinese, io faccio un appello a tutti coloro che sono qui oggi e anche alle istituzioni, affinché si possa veramente tutelare questa meraviglia, questa eccellenza, perché ad oggi purtroppo esiste soltanto un consorzio che è il consorzio Promovetro, a cui purtroppo non aderiscono tutte le aziende, e soprattutto i grandi nomi del vetro di Murano, io credo che avere un certificato di garanzia invece sia assolutamente necessario e che tutelerebbe tutte le aziende, tutelerebbe il comparto di Murano, tutelerebbe una delle eccellenze italiane rimaste, tra le poche, perché purtroppo siamo un po' maestri nello svendere le nostre meraviglie e quindi la mia speranza è quella che si possa di concerto riuscire ad andare tutti verso questa direzione, credo che sia un bene comune, che sia un interesse comune, viviamo in un momento complicato, sicuramente la digitalizzazione, come ho detto prima, ci può aiutare a far conoscere il vetro e a trasmetterlo attraverso tutti i canali possibili e immaginabili, io sono dell'idea che non bisogna curare il proprio roticello ma si debba veramente dialogare soprattutto per chi ha voglia e stimoli di far crescere, di continuare insomma e di proseguire nella realizzazione di oggetti e di opere d'arte, perché di questo si tratta e di preservare poi il lavoro di questi maestri che sono gli scultori e i pittori di oggi per quanto riguarda questo tipo di materia, quindi parliamo veramente di capolavori e quindi credo sia assolutamente necessario fare questo tipo di passo. Un excursus interessantissimo e soprattutto anche questo pensiero che bisogna procedere insieme, non si può agire da soli per un cambiamento, per un cambiamento proprio di prospettiva, e che poi è anche l'intento del forum, quello appunto di mettere insieme più voci per capire come è meglio muoversi e anche per sensibilizzare meglio la questione, focalizzare bene la questione. Quindi invito Federico Peri ad aggiungere grazie, grazie mille Andrea, buon lavoro! Grazie mille Andrea, Grazie.